Il volontariato è un'attività di aiuto e sostegno svolta da soggetti privati generalmente in modo gratuito per varie ragioni che possono essere solidarietà, giustizia sociale, altruismo o di qualsiasi altra natura. Il volontariato nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte ai problemi non risolti ed è proprio il volontariato che in quest'ultimo periodo ha ricoperto e sta ricoprendo un ruolo importantissimo e voglio aggiungere, voglio sollecitare tutti quanti nel cercare di avvicinarsi a questo mondo fantastico per riuscire insomma a darci un aiuto a vicenda perché credetemi ragazzi una volta che ne fate parte è qualcosa di fantastico. Il volontariato è un'attività di aiuto e sostegno.